L'agricoltura del futuro passa anche dalla formazione tra le colline del Chianti. C'è una scuola per contadini, tre anni di corsi per diventare imprenditori agricoli. Valentina Bissi. Eccoli i contadini del futuro, giovani tra i 14 e i 18 anni immersi tra i filari, intenti a raccogliere l'uva o a potare gli ulivi. Per molti l'amore per la terra ha radici lontane. Questa passione nasce da mio nonno che è contadino, ha un pezzo di terra e ho sempre fatto la vendemmia. Ho deciso di fare il contadino perché mi garba stare all'aria aperta. Le lezioni a contatto con la natura tra tecniche tradizionali e strumenti innovativi. Possiamo vedere come è andato l'andamento della maturazione e la produzione della vigna. Tre anni di corso gratuito per raccogliere i frutti che li trasformeranno nei nuovi contadini, come Matteo, 24 anni, che ha aperto una piccola azienda agricola. È un lavoro che richiede molta fatica, che richiede molto impegno e avendo tanta passione ti semplifichi molto la vita. Il 95% dei ragazzi che conseguono la qualifica di operatore agricolo trova lavoro. Dalle vigne ai pc in classe si studiano le tecniche più avanzate. Abbiamo strumenti analitici piuttosto che strumenti robotizzati che ci permettono e ci aiutano nel migliorare il prodotto finito. Ma studiare a contatto con la terra è tutta un'altra storia. Quindi quando andiamo in campagna e lo facciamo lavorare seriamente, non si stancano mai. Hanno un'energia enorme. Addio bebe. 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 Grazie a tutti